Classica camminata in Alta Val Formazza, con ritorno all'Alpe Bettelmatt, dove saliamo dal lago di Morasco. Sopra di noi la Cappella del Passo del Gries, mentre ormai abbiamo raggiunto la splendida conca di Bettelmatt. Ecco la Nigritella. Grazie a tutti. Ecco le baite di Bettelmatt, dove si produce il famoso formaggio. Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo una sosta all'Alpebethelmatt continuiamo la salita verso il passo del Gries. Grazie a tutti. Sotto di noi la piana di Bethelmatt. Intanto il passo del Gries si sta avvicinando. Grazie a tutti. Dal passo del Gries ecco sullo sfondo la punta d'arbola. La vista spazia poi sul Gries. Sul Ghiacciaio del Gries. Ecco poi il lago del Gries. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.